ehi ciao ciao ma tu che fa non viene a correre si a correre magari ho due ore di pausa e mille cose da fare ma tu immagina se in qualsiasi momento potessi pagare una bolletta o ricaricare il telefonino oppure ricevere ed effettuare pagamenti sarebbe tutto più comodo tutto più semplice ma tu piuttosto come fai io io poste mobile ciao poste mobile io non lo sapevo